Buonasera Voi sapete Il dovere del conclave Era di dare un vescovo a Roma Sembra che I miei fratelli cardinali Sono andati a prenderlo Quasi alla fine del mondo Ma siamo qui Sì, siamo tutti Con le grandi aspettazioni Del primo popo Della America Del primo Del primo Del primo Del primo Jesuit Ma, più di più Il primo popo Di chiamare il nome Francesco Che farà A presto 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 Grazie a tutti.